A San Mauro il lentigione cerca il successo esterno per mantenere la seconda piazza in gradatoria. Gli emiliani sono a meno 3 dalla capolista Rimini e non vogliono lasciare niente al caso. Dall'altra parte la San Maurese arriva dal pari in esterna sul campo del Sasso Marconi. Arbita la gara in bay di Cuneo coadiuvato da Fensi di Treviso e Conforti di Salerno. La gara vede i padroni di casa rendersi pericolosi a calcio piazzato. L'abbattuto di Giannini provoca l'allontanamento parziale della sfera con tentativo dalla distanza dei padroni di sospentosi al lato. Il lentigione al primo vero a fondo passa attraversione dalla destra Boalì fa da sponda per la corrente Caprioni che infila a Kelly. 1-0 per gli emiliani. Il raddoppio non tarda ad arrivare porta la firma dello stesso marcatore alias Caprioni. Rinvio corto di Kelly. Il lentigione recupera la sfera tiro dalla distanza di Caprioni e porta violata per la seconda volta. La San Maurizio in replica con Giannini numero 11 scambia il pallone con Merlunghi venendo invitato dall'ex cattolico al tiro ma sorse fa buona guardia. Ancora lo scatterato Giannini tra i migliori dei suoi appare inarrestabile protagonista con questo tocco di tacco che manda il tiro Gurini pallone sull'esterno della rete. A questo punto Giannini prende la palma di Migliori in campo per quanto riguarda i primi 45 minuti provoca l'espulsione di Odice che frana su di lui lentigione che rimane in 10 uomini. Da punizione Giannini alza la mira non riuscendo ad approfittarne da subito. San Maurizio che rischia di essere trafitta invece per la terza volta il colpo di testa di Zagnoni non viene trattenuto da Kelly che successivamente si riscatta anticipando Wally. Nella ripresa la San Maurizio prova a mettere sotto il lentigione con l'uomo in più Misuraka non inquadra lo specchio della porta mentre dall'altra parte Caprioni impegna Kelly. Ma la San Maurizio riapre i giochi quando una solo di Giannini porta a tiro Merlunghi tentativo ribattuto sul piede caldo di Misuraka che dalla distanza sigla così l'1 a 2. Giochi riaperti dall'angolo l'incertezza di Sorsi fa gridare al possibile pari della San Maurese. L'arbitro interviene segnalando una carica sul portiere tra le proteste dei padroni di casa. La soluzione della distanza viene attuata anche da Pier Federici appena entrato pallone fuori di un nulla. Lo stesso numero 16 pennella al centro questa traversone su quale Sorsi ancora una volta risulta fuori tempo sulla linea allontana il pericolo. La difesa ospite con quest'azione si conclude un match dove Lentigione con questi tre punti approfittando della sconfitta dei Rimini conquista con i biancorossi la leadership del torneo.